Musica Amici soft tire, oggi missione impegnativa con Pietro Dante Corradino che simula un braio twist abbattuto e il sottoscritto Michele Castaldo Molto bene Da ricordare che non possiamo essere uccisi Praticamente sono due squadre con l'obiettivo di recuperarci e portarci in un campo base Si ostacoleranno tra loro E noi non possiamo essere uccisi finché una delle due squadre non ci libera Cioè ci recupera Io sono ferito, dovranno prima medicarmi E poi intraccerò il cammino perché è appunto ferito Poi ci... capito come? Bene Pietro, cosa ne pensi del game odierno? Penso che questo campo offre pochi ripari Quindi è molto più bello la giocata Sono rimasto un po' deluso Inquadriamo il campo? Da ricordare che siamo in un mini bunker Cioè il campo per diva è sopra Per noi siamo caduti qua Sono molto rammaricato dalle tante assenze Oggi siamo solo in 14 Però va bene Stiamo provando molte missioni Prima abbiamo fatto il disinnesco della bomba È dato a buon fine Ci sono state delle persone che hanno omesso di essere colpiti Ma va bene Perché tutto sommato Ah delle persone Con le radio sono poco affidabili Diciamo È questo Vabbè Un saluto per gli amici Adesso è scusato Vediamo che cazzo Vuoi farci un... Ah prima della dimostrazione Dimostriamo quelli che barano con le radio Sentiamo i cazzi loro Non balla Cazzo Cazzo Vediamo che cazzo Scusate Sto cazzo qua Dove cazzo vai? Un linguaggio militare Si saranno ingrociati Ha detto Dividiamoci Se ci sparano Ci si sparano Tutti Si sdiv... Ah bene Si rimane Siamo dispersi Siamo caduti Nel nostro F-15 Il mio amico è ferito Aiutateci Jack Jack No Dante Sì di tu Jack No Jack Jack Quando cazzo Quando arrivano questi soccorsi? Come? Quando arrivano i soccorsi? Diciamo che le due squadre Che ci devono salvare Esitano Il mio amico è ferito Sta morendo È comandato il comandante Come? Si Tante tante cose Tante cose Qui sotto Siamo caduti Lo suono E' zonno Pfff Pfff È pieno di Viettegong E andiamo a vedere dove sono Si Dissardino Merda Che non manco salva C'è che ce l'ha fatta Un cazzo Faccio Faccio un moto Diciamo che piuttosto che sono due ore Ken Attenzione Stai arrivando uno Stai arrivando uno Stai arrivando uno È lupente Aiutateci Il mio amico è ferito Qualcuno ci sente? Aiutateci Oh grazie a Dio Grazie al cielo È ferito Aiutatelo È ferito? È ferito Il piede No Jack tiene duro Ti stanno salvando Andiamo Andiamo Jack saluta Puzzittosa Piero Vai Vieni tanto Vieni Aiutatemi Parte terza La parte terza della giornata di oggi Noi siamo Sempre io e il mio socio Il segretario Michele Stiamo simulando Bella zì Siamo stati presi in ostaggio Degli irachene Praticamente L'obiettivo delle forze aliate È quello di liberarci Nel momento in cui ci liberano Noi possiamo fare fuoco Contro gli irachene Devono anche armarci Ci salvano Possiamo fare fuoco Possiamo tentare di evadere Però sarebbe alquanto Difficile Difficile perché Wolf Il capo squadra Lo inguardiamo Che sta Stai ingaggiando in questo momento Ha posizionato molto bene Ha posizionato molto bene La squadra Questa è un mitra di giro Non mitra di giro Non mitra di giro Wolf Saluta gli amici del Soffatai Wolf Saluta gli amici del Soffatai Molto bene Ricordiamo Wolf Quella è il vicepresidente Quella è la zona molti Vieni qua Nella nostra tenuta Da ostaggio Residenza estiva Ostaggio Saluta gli amici del Soffatai Adesso chiudiamo le riprese Stiamo sparando poco Però devo dire che ne vale Veramente la pena Perché ci stiamo divertendo A fare video Maniegi Ostaggi Irakeni Kamikaze Kapikaze Ricordate gli amici del Soffatai Il prossimo appuntamento Quando è? Il prossimo appuntamento È domenica 27 Però siamo ben lieti Di fare la mezza giornata Perché c'è il grandissimo derby E poi penso che Per la prima domenica di febbraio Febbraio Il 3 se non sbaglio Dovremmo fare una grandissima amichevole Con i ragazzi di Grumula Dovremmo essere 30 contro 20 Una cosa del genere Noi siamo venuti Quindi il prossimo appuntamento Delle nostre video È data a data 27 gennaio Domenico Probabilmente nella Pinettina O gli altri Saluto agli amici Ciao ragazzi Feliciti Black Nights Black Nights Fuck yeah Grazie.